Bentornato Sam, ti stavamo aspettando e in tutta sincerità c'eravamo un po' stufati di quell'indole action che avevi sviluppato negli ultimi due o tre giochi perché Splinter Cell è una di quelle serie che ha subito nel corso degli anni l'inesorabile processo di casualizzazione che ha portato alcuni dei più grandi franchise a trasformarsi in giochi certamente più aperti al pubblico di massa ma al contempo meno fedeli al concept originale Eppure lo sviluppatore di Splinter Cell Blacklist è Ubisoft Montreal, lo stesso di quel conviction che è stato spesso accusato di un'eccessiva tendenza all'azione ma a differenza di tanti altri studi di sviluppo, Ubisoft Montreal ha saputo in parte ascoltare il proprio pubblico creando un prodotto che mantiene le giuste distanze dagli estremismi di un gioco di nicchia e dal cotonato mondo dei giochi di massa Mi nascondi qualcosa? Senza tante sorprese, in Blacklist la minaccia terroristica è il fulcro della vicenda Un gruppo organizzatissimo che si fa chiamare gli Ingegneri ha dato un ultimatum all'America Gli Stati Uniti devono ritirare le proprie truppe all'estero o subiranno un attacco ogni sette giorni Per rispondere alla minaccia il presidente degli Stati Uniti smantella l'organizzazione segreta Third Echelon creando un nuovo gruppo antiterroristico chiamato Fourth Echelon con a capo il vecchio Sam Si tratta della prima novetà di questo nuovo capitolo della saga in quanto Sam Fisher si ritrova per la prima volta a giocare il ruolo del capo Le prime sequenze di Splinter Cell Blacklist ambientate sull'isola di Guam ci danno subito un'idea di quanto questo gioco si sia mosso nella direzione giusta E la direzione giusta è una strada molto buia in quanto l'oscurità, vero marchio di fabbrica della serie, è finalmente tornata Gli sviluppatori hanno regolato la luce del gioco su toni naturalmente scuri che rendono alcuni momenti nell'ombra davvero emozionanti Dopo un paio di missioni alla luce del sole nel corso della terza missione ritroviamo una delle meccaniche più amate del gioco Che ci richiede di muoverci con passo felpato fra le ombre e di creare il buio laddove non è naturalmente presente Per esempio sparando alle lampadine e creando degli emozionanti diversivi Questo gioco non è totalmente un ritorno alle origini in quanto introduce alcuni elementi di adattabilità ai diversi palati dei giocatori Nello specifico gli sviluppatori hanno introdotto tre possibili metodologie di gioco che rispondono al nome di fantasma, panther e assalto Lo stile fantasma è quello che i fan storici della serie chiedono a gran voce da parecchio tempo e che richiede di aggirare i nemici piuttosto che affrontarli Lo stile panther invece incarna quello dell'assassino silenzioso I nemici in questo caso vengono affrontati ma si mette fine alla loro esistenza prima ancora che questi si accorgono di essere stati attaccati A supporto di tale stile di gioco fa ritorno il controverso tug and kill che farà storcere il naso ai puristi ma che è stato fortemente limitato Infine è possibile approcciarsi al gioco con uno stile d'assalto che tuttavia non facilita di molto il compito Se si viene scoperti i nemici aumentano e con un paio di colpi è facile finire a terra Il gioco non ci chiede di scegliere il modo in cui vogliamo giocare Siamo noi a decidere come affrontare ogni situazione Alla fine del livello viene riassunto il punteggio suddiviso nelle tre componenti fantasma, panther e assalto In questo modo si può comprendere il proprio stile di gioco Uno degli aspetti più sorprendenti di Splinter Cell Blacklist è dato dall'intelligenza artificiale Quadiuvata da qualche opportuna scelta di programmazione Quando i nemici non sono in allerta la loro intelligenza è fortemente limitata Si limitano a seguire dei pattern preimpostati ed è facile ingannarli La vera sorpresa giunge nel momento in cui i nemici vengono messi in allerta Non solo tendono a convergere sulla nostra posizione Ma lo fanno anche utilizzando percorsi secondari Tentando di circondarci e talvolta dividendosi in piccoli gruppi I programmatori hanno inoltre avuto un'idea davvero brillante Se siete quel genere di giocatore che ama l'approccio stealth Vi ritroverete spesso a ricaricare una sezione di gioco dopo un errore In Blacklist il pattern dei nemici viene resettato e rimescolato al terzo tentativo andato a male Questa semplicissima idea rende il gioco imprevedibile, più difficile del previsto e naturalmente molto soddisfacente Alla fine di ogni missione il nostro Sam riceve un bonifico I soldi ottenuti possono essere spesi per migliorare la base o personalizzare l'outfit di Sam Con vestiti e armi più orientate all'azione o allo stealth Buona anche la dotazione dei gadget che include vari tipi di visore e un sacco di oggettistica alla 007 Tra cui un drone radiocomandato e delle favolose telecamere appiccicose Che possono stordire nemici o autodistruggersi causando la morte degli ostili nel raggio di qualche metro A questo si aggiungono numerosi diversivi sonori Fumogeni, granate, lacrimogeni, taser ed esplosivi di varia natura Ma cazzo là non ci posso credere! Splinter Cell Blacklist gode inoltre di una modalità cooperativa davvero divertente Nonostante le missioni esclusivamente cooperative siano relativamente poche Quelle promiscue per single e co-op si giocano con approcci completamente differenti in compagnia di un amico E permettono di attivare percorsi alternativi altrimenti inaccessibili Che spesso variano in maniera quasi totale il modo in cui ci si orienta nella mappa Nel complesso le missioni del gioco si avvicinano alla trentina Ma le 12 missioni in single player si possono ultimare in una decina di ore Un passo avanti rispetto al brevissimo conviction ma certamente nulla di eclatante È evidente dunque che per prolungare la durata del pacchetto è consigliabile affrontare anche le missioni secondarie Che potrebbero quasi triplicare la durata del gioco sebbene diano il meglio di sé in compagnia Il multiplayer, vale a dire la modalità Spice vs Mercs, è finalmente tornato Il gioco ripesca la tanto amata modalità online di Chaos Theory Con risultati davvero eccellenti in termini di coinvolgimento dei giocatori Senza troppe sorprese Splinter Cell Blacklist è il gioco graficamente più evoluto della serie In tutta onestà non ci sono giganteschi passi in avanti rispetto a conviction dal punto di vista dei modelli Ma la conformazione variegata degli ambienti è certamente posta a un gradino più in alto rispetto al passato Le varie location sono uniche e ben caratterizzate Accompagnate da texture variopinte e ben definite Dal punto di vista del sonoro il gioco sancisce l'atteso ritorno di Luca Ward alla voce di Sam Fisher I nostalgici certamente ameranno risentire la duttile voce di Ward interpretare il freddo protagonista della saga Buoni quasi tutti i personaggi secondari Mentre i personaggi minori offrono spesso performance al limite del ridicolo Mi daremo la caccia fino all'ultimo figli di puttana! Splinter Cell Blacklist è un continuo crescendo Quando credevamo che il gioco sarebbe stato l'ennesima svolta action Gli sviluppatori ci hanno sorpresi con un titolo che fa l'occhiolino al passato E che offre alcuni scorci di gioco interpretabili con un approccio ad altri tempi La campagna principale potrebbe risultare breve se affrontata di petto Ma se il vostro stile di gioco incarna quello dei primi Splinter Cell Saprà darvi grosse soddisfazioni anche in termini di durata Il bello di Blacklist è che non vi dice come giocare Vi lascia la possibilità di farlo come meglio credete I nuovi fan troveranno buoni motivi per acquistare questo gioco E fortunatamente anche i vecchi fan quest'anno potrebbero godersi un gioco della saga Che non sembri totalmente sradicato dal suo contesto Se a questo aggiungiamo un corposo multiplayer e una modalità co-op che merita davvero di essere giocata La qualità complessiva del pacchetto sale a dismisura Sam è di nuovo fra noi Arrenditi e forse ti lascio vivere